Ciao a tutti, sono Gabri Costa, statemi a sentire. Dobbiamo completare queste sfide. Bisogna completare il livello, raccogliere tutte le 5 maschere di Sly, completare il livello con 30 secondi rimanenti, non urtare le pareti. Quindi, bisogna guidare la scintilla. Qui bisogna muovere i joystick senza fili. Mi piacciono questi mini giochi arcade dell'Hack Pack di Bentley. Ricordatevi di raccogliere la sveglia che vi dà il timer, che vi fa recuperare il tempo. Abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Come sempre. Ciao a tutti.